Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova lezione di italiano. Dans cette vidéo on va étudier les noms masculins français qui sont féminins en italien. Vediamo i nomi maschili in francese che sono femminili in italiano. On ha già studiato i nomi femminili in francese che sono maschili in italiano. Se avete rotato questa video, vi lascio i linki in basso. E bene, cominciamo! L'Âge L'Ètà L'Ère L'Arià Le Bonheur La Felicità Le Calme La Calma Le Chiffre La Cifra Le Choix La Scelta Le Collier La Collana Le Couple La Coppia Le Crayon La Matita Le Depart La Partenza E Ancora E Ancora Le Dimanche La Domenica L'Escalier La Scala L'Ete L'Estate Le Foteil La Poltrona Le Matin La Mattina L'Ongle L'Unghia L'Orchestra 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 Le Papier La Carta Le Petit Digeoneur La Collazione Le Printemps La Primavera Le Sable La Sabbia Le Soire La Sera Le Tarif La Tarifa E' bon, on va le ripeter. Ripetiamo Après moi Dopo di me L'Etat L'Aria La Felicità La Calma La Cifra La Scelta La Collana La Coppia La Matita La Partenza La Domenica La Scala La Scala L'Estate La Poltrona La Mattina L'Unghia L'Orchestra La Carta La Carta La Colazione La Primavera La Sabbia La Sera La Tarifa La ba Une Autre chose La Rartenir La Lettre La L'Alettra 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 La Soleduna Una Chi Et riding La Cata La Matita Un B. Una F. Un F. Quindi, fate attenzione. E voilà. Per oggi, abbiamo termine. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova lezione di italiano. Spero che questo video vi sia stato utile. J'espère che questa video vi sia utile. N'hésitez pas a lasciare un commento o a me poser des questions. Grazie.